Buongiorno a tutti, è stato emanato ieri il nuovo decreto del Presidente del Consiglio che regolerà tutte le attività pubbliche e private fino al prossimo 15 gennaio. In particolare il nuovo DPCM per quanto riguarda la scuola è tornato a disciplinare la didattica a distanza e parlare anche di concorsi. Per quanto riguarda l'attività didattica, sostanzialmente il DPCM prevede un rientro pieno alla didattica in presenza a partire dal 7 gennaio prossimo, quindi dopo il rientro dalle vacanze di Natale e quindi dal 7 gennaio prevede che dovrà essere garantita l'attività didattica in presenza anche nella scuola secondaria per almeno il 75% degli alunni. Quindi al momento resteranno in vigore le disposizioni in materia di didattica a distanza previste per le regioni rosse, arancione e gialle, quindi a secondo didattica in presenza è garantita per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo grado limitatamente alle prime classi per le regioni rosse, mentre per quanto riguarda le regioni arancione e le regioni gialle è didattica a distanza soltanto per la scuola secondaria di secondo grado. Il DPCM prevede che al rientro dal 7 gennaio quindi riprenderà l'attività didattica in presenza e se sarà necessario con specifici accordi anche a livello regionale saranno scaglionati gli orari di ingresso e di uscita dalle scuole e sarà possibile anche attivare orari pomeridiani per le lezioni. Per quanto riguarda invece i concorsi è stata prorogata la sospensione di tutte le procedure concorsuali pubbliche e private, fatta eccezione di quelle che riguardano la semplice valutazione dei titoli o le procedure che prevedono una valutazione in via telematica sostanzialmente a distanza. Naturalmente restano validi ancora e in corso i concorsi in materia sanitaria e in materia di personale di protezione civile. La proroga della sospensione riguarda anche ovviamente il concorso straordinario di scuola secondaria che era stato sospeso col precedente di PCM del 3 novembre e che salvo ulteriori proroghe resterà ancora sospeso fino al prossimo 15 gennaio. Grazie e arrivederci.